Nell'ambito di D'Annunzio International Arts Festival, evento speciale al Teatro Monumentale Gabriele D'Annunzio, martedì 12 luglio, dalle ore 21 e 30. Festa dello Sport. Benvenuto della città a Zeman. Team Show con Zenec Zeman, intervistato dal sindaco Luigi Alboremascia, dall'assessore allo sport Nicola Ricotta, Giampiero Galeazzi e Giordano Bruno Guerri. Sarà presente l'intera squadra. Interverranno il presidente della Pescara Calcio, Giuseppe De Cecco, l'assessore alla cultura Elena Seller, il presidente dell'ente manifestazioni pescaresi Alfredo Cremonese, l'assessore allo sport Nicola Ricotta, premierale eccellenze sportive pescaresi, l'amatori basket, Vianello Pescara Volley, la Ponzio Pescara e Simpli Sport. In diretta web su www.forzapescara.tv Radio Partner, Radio Parsifal, un grande evento aperto gratuitamente a tutti gli sportivi. Martedì 12 luglio, alle ore 21 e 30, Teatro Gabriele D'Annunzio, Festa dello Sport. Benvenuto della città a Zeman. Per i biancazzurri in Italia e nel mondo, in diretta su www.forzapescara.tv Grazie a tutti.